Cari amici, eccoci qui nel nostro spazio YouTube. Parliamo di una, come direbbe un attore in un film di Lino Bambi, notizia Bamba. Eh sì, perché D-Max, il gruppo Discovery Italia, si assicura la visione, seppur indifferita di circa una settimana di WWE SummerSlam, il Premium Live Event, pay-per-view più caldo dell'estate, il secondo dopo Brestelmenia, che ricordiamo anche Brestelmenia quest'anno è stata trasmessa indifferita le due serate su D-Max, quindi ribadiamo, domenica 11 agosto alle 21.25, non prendete impegni tutti a vedere col commento del Godzilla Luca Franchino e del Bardo Michele Pusa per SummerSlam 2024, e c'è anche un'altra bella notizia, la puntata antecedente di Beshind Berlin, il Paper View Premium Live Event in terra tedesca, anche essa sarà trasmessa, seppur in leggera differita su D-Max, venerdì 30 agosto alle ore 22.20. Bene, noi, io vi saluto, quindi ribadiamo, sia SummerSlam con una settimana di differenza, con il commento in italiano che la puntata pre-Beshind Berlin, e entrambe saranno in chiaro su D-Max. Quindi, che dire, il gruppo Discovery continua a regalarci sorprese, con l'obiettivo che il boom italiano della WWE stia veramente ritornando ai fasti di un tempo. Ricordando che a SummerSlam abbiamo sfide come Logan Paul, L.A. Knight, Cody Ross, Solo Sicoa, e abbiamo tante altre sfide molto interessanti. Ciao a tutti, alla prossima, ciao!